Luminosa che è alla sua seconda o terza partecipazione? Terza partecipazione da Napoli, Elisa E, finalmente abbiamo la gioia e il piacere di risentirla dal vivo perché l'anno scorso fu bellissimo ma era in video, ahimè, che ci canta un brano interessante di una cantautrice italiana che si chiama Francesca Michelin, il brano è Nessun grado di separazione, Elisa E. E' la prima volta che mi capita Prima mi chiudevo in una scatola Sembro un po' distante dalle cose della vita Perché così profondamente non l'avevo mai sentita E poi ho sentito un'emozione Accendersi veloce e farsi strada nel mio petto Senza spegnere la voce E non sentire più tensione Solo vita dentro di me Nessun grado di separazione Nessun tipo di esitazione Non c'è più nessuna divisione Tra di noi Tra di noi siamo la sola direzione In questo universo Che si muove Non c'è più nessun grado di separazione Non c'è più nessun grado di separazione Da un po' meno spazio al cuore Più altamente Sembra un passo indietro l'anima inalerta Che guardavo il mondo da una porta Ma è completamente aperta E non da vicino E no Non c'è alcuna esitazione Finalmente dentro di me Nessun grado di separazione Nessun tipo di esitazione Non c'è più nessuna divisione Tra di noi siamo la sola direzione In questo universo Che si muove Nessun grado di separazione Nessun grado di separazione Nessun grado di separazione Nessun tipo di esitazione Non c'è più nessuna divisione Tra di noi siamo la sola direzione In questo universo Che si muove E poi Ho sentito un'emozione Ancendersi Veloce Farsi strada Nel mio petto Senza spegnere La voce Grazie Bravissima Elisa Signori giurati Non so cosa succede qua Ma tre applausi Durante la performance Sono un segno che stiamo entrando nel vivo del concorso A proposito del nostro